ciao a tutti sono veri video games oggi continuiamo con tell me why e andiamo avanti vediamo come continuerà questa storia e niente vabbè niente io mettere le cuffie mettiamo gli occhiali se non vedo una mazza e niente iniziamo ok quindi dobbiamo andare da testa adesso vediamo un po e niente qua da guardare magari scusa stavo guardando se c'era qualcosa di interessante wasn't pleasant surprise didn't Alison tell you I'd be by today yes I think she did I just didn't expect to see such a dapper young man well I did shower this morning did you just get back into town or more or less we've been working out at the old house but surprise surprise after 10 years of sitting empty it was a few things hence the supply run ah right well we'll get you set right up it must be nice to be home uh i'm not sure nice is the word for it oh of course i assume being there feels complicated that's one way to describe it well don't let me keep you any longer i'll be here if you need anything oh hey is tessa around today um the wife's not here i'm sure she'll be around later though okay okay so we need candles and an all-purpose cleaner for snacks and drinks i'm starving okay okay yes i forgot what i'm going to do okay so what do you think is that what are you with candy girl or chips girl me and the potatoes i think i should go on the potatoes chips salt and vinegar is the only thing that sits right if my stomach's acting up wasn't planning on making out with anybody tonight so let's go for it let's see fresh cut peonies triple layer chocolate chip cake toasted marshmallow are you doing a dramatic reading of the fancy ass cookbook nope just browsing these fancy ass candles I'm sorry I I'm sorry I'm sorry I'm sorry if my stomach's acting up what else do we have to take okay okay so we have to take a selection of the the i the 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 aspetta 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 questo cos'è guarda e leggiamo un certo vabbè un concerto che non me ne frega un cacchio ok va bene decisamente naturale una forza nostra decisamente naturale ok ma prima di dirigerci a bancone se parliamo con lui se dice qualcosa di inventory huh yeah my mind is so numb right now anyway how's the shopping spree going finding everything you need yeah i'd be done already but i'm letting taylor browse and take it all in must be weird for him to be back here it is and it doesn't help that everyone around here keeps making it weirder but he's doing ok all things considered hmm i feel like there's a story there come on spill it's just kind of unsettling to go back to the old house after all this time how are you feeling still unsettled but it'll pass all right well i'll be here if you need me ok ok cos'è sto ruolo guarda un po' il giro ragazzi perché magari ci possono essere indizi cosa ci serve guarda un po' il giro bene Allora Tessa Allora Tessa Allora Tessa Allora Tessa My advice to you would be to try to move on It's not that easy What happened that night You can't understand something like that But it was gods plan That's all we can know I need to go now Best of luck to you truly What the hell was that? I told you she wouldn't talk It's like she's got CIA training che è morto hanno dei flash adesso magari magari hanno dei flash ricorda adesso e proviamo a ricordare segui il ricordo non 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 I want to talk to you now, or do I need to start calling in you dead? Huh, I'd completely forgotten about that. I remember it, but not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version, okay? What's the record? What did we have to talk about? They walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? Uh, no. Marianne defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? What's another record? Where do you want to tell us? Please, let's just talk for a few minutes, okay? Please, Marianne, I'm just trying to stay away from my children. They don't need your guidance. I'm just trying to help. I don't need help! Not from you, not from anyone else in this fucking town. I'm done with all of you. You're done with the food I give you? The fuel? Maybe you are, but the kids are my children, Tessa. Mine. Not yours. Please, let's not do this here. Let's go into my office. Fine. Okay. You two, wait here. That's what it was coming to be again. You two, wait here. That's what it was coming to be again. What's wrong with you? Boh, chissà che cosa si son dette. I'm still skeptical, but okay. For now, let's say Marianne was being Marianne. But once they got into the office, they both went at it. Hard. What do you think they were arguing about? Me? Don't know. It was impossible to hear anything after she cranked up the music. But hey, now that we know she was lying to our faces, let's ask her. Ah, bella. Vabbè, è vero. Aspetta, abbiamo i ricordi. Vai, qui. Aspetta prima, guardo un po' la stanza poi. can I help you Allison oh no no thanks I'm good I'm just looking for something that I forgot man Tessa keeps track of everything in these notebooks like what any loans she's given out stuff she lets regulars take for free even her tithes and then what she starts passing out forest heads if people don't pay her back I think she just likes having a record she's gonna hand it off to St. Paul like a resume what's this doing here va bene possiamo andarcene prima guardo la stanza poi parliamo con Tessa vediamo un po' c'è qualcosa di comunque non penso ci sia niente di interessante ma questi sono i turni che hanno insomma sono gli orari di lavoro insomma vediamo un po' no non c'è non mi sembra più di niente va bene parliamo con lei vediamo se ci dice qualcosa di sto solo facendo compere cosa stai combinando il tuo ricizio andiamo a diretti appunto il tuo ricizio con Mary Ann ma sento è a ricordare no I was in the middle of something okay we'll leave you to it damn it a Jacuzzi I think she knows more than she's letting on but there's no way to nail her down when we don't even know what we mean if we could pinpoint what it was about she'd be out of excuses sure but how do we do that the music was too loud to make out what they were saying Marianne and Tessa were obsessed with that song it was on all the time what are you thinking we've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional maybe listening to it will trigger something you may be on to something here Ronan we can't go back to her with anything half-assed we should go talk to Tom make sure we build as strong of a case as possible ok let's see if we can figure out what song it was oh lì non pensavo mi facevo scissuto così poi non lo so se con altre scelte magari però vedi mi fa ritornare aspetta vediamo direi cosa stai combinando so what are you doing there oh just inventory guess I'm lucky I had the day off huh yes what a lucky coincidence no just picking up some things for the house oh okay does your brother need any um shaving products we've got some on sale I think he's got everything but uh thanks good good well you let me know if we're running low on anything you need no never mind no vedi non niente dobbiamo scoprire nuove cose praticamente prima di chiedi a Tom della canzone che senti nei ricordi ok dobbiamo andare da Tom per forza hey Tom there's something I can help you with non io fare come face da la campagna ricordi quella canzone this might be a weird question but do you remember the song that Tessa and Marianne used to love they played it all the time how good I forget I think she's still got the CD back here a little worse for the wear of course hold on here it is I was happy when it got put away to be honest a bit cheesy for my tastes I don't know if you remember something we'll see we'll be looking for a disco and see how it's in school this is it right? well I just got hit with a flood of memories you seeing what I'm seeing? yeah yeah should we jam this one out? yeah ok ok come join me you love this song oh I couldn't possibly some of us are actually trying to get work done here ok ok una mamma nel palla e vediamo questo ricordo Tessa, acta come se fosse Marianne's mom sometimes. I think you mean Tessa was self-righteous and treated Marianne like a charity case, she was trying to help. We should go find that notebook she was holding. Pretty sure I saw one Mark 2004 in the office. We have seen the first one. We have seen the first one that they were there. Do we have other memories? I thought you needed help in the school. Two hours ago. Have you been drinking? What? No. I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. Marianne. I said I'm fine! I'm fine. I'm fine. I'm fine. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle... I've been working with these people for years. They can help. They can help. Maybe conversion therapy back. I'm sorry. Wow. This is true? I want to know how Marianne felt about it. And we need to hit Tessa with some heart proof. Okay. Let's see. Can you see if there are other memories? Well, basically, the mother doesn't have enough money to have been able to understand. Whatever we have understood. She said, she would give us a benefit. quindi poi mi sa che allora aspetto che è uscito una cosa che non c'era prima ok urgente non perdere questa opportunità se ti dicessi che il governo ti deve oltre 10 mila dollari per la tua educazione non è un pesito non dovrai restituire nulla non è una truppa e dici clicca a cui se vabbè qualizzazione per la famiglia tradizionale guarda la conferenza e tutta la conferenza white more spiegare il disegno di più sulla sessualità 10 grandi aforismi cristiani che ti cambieranno la vita vita per il genitore evitare l'attrazione omosessuale campeggio di cercatori di virtù altissima edizione aperta iscrizione 2015 ragazze per aver acquistato da noi tu ordine ci sto di cucina vabbè questo è acquistato e i testi sono appena tornato dal lavoro ho trovato le ragazze a letto che dormivano come giri e ha detto quando è venuto a prendere erano eforiche e hai convinto entrare a mangiare i tuoi che non so se lo pronunciato bene quale santo è pregato per riuscirci lol per tutta la mattina hanno parlato d'altro che della gittà di campeggio con la zia tessa dei maschimello che hanno mangiato degli insetti che hanno catturato non ricordo l'ultima volta che l'ho visto entrambi così felice di solito una ride mentre l'altra piange so che sei molto occupata a gestire il negozio e diventare fast lady perciò grazie di aver trovato del tempo per loro nonostante ti abbia avvisato all'ultimo minuto sai come sono andata a lavoro le ragazze dicono ti vogliamo bene zia tessa p.s. tu e tom doveste venire a cena qualche volta edre muore dalla voglia di farvi vedere la nuova sala multimediale vi terrà qui occupati mentre noi sosseggiamo vino nel cucino la tua sorella è la preferita? vabbè l'elefante nella stanza so che non volete affrontare la questione ma lisa ha saltato ancora le prove sono settimane che non si fa vedere so che ci siamo tutti commossi per la sua educazione di Danny Boy al funerale di Carl ma a cosa serve una splendida voce se non ti presenti le prove in orario ogni settimana come tutti gli altri credo che dovremmo iniziare a organizzare il ballo invernale senza lei cosa ne pensate? barboccoi l'attimo Robin Williams ok usiamo qua ahora iscriviamo qua Adesso lo faccio girare, va bene? Aspetta, dobbiamo leggere Febbraio, saldato debito di febbraio Benzina Allora vediamo, per la benzina saldata Per genere alimentari Jack Aprellison Saldato e aiutato il negozio Per farmaci saldato Per genere alimentari saldato Aiutato durante le ore di punta alimentari Aiutato durante le ore di punta alimentari Riparazione lavatrice Non vista Le scarpe per le bambine Se mi ho scoperto Non vista Niente Dopo non ha iniziato più a pagare E forse per quello magari hanno Bene Nuovi indizi ce l'abbiamo Vediamo se ci dice qualcosa Adesso dovrebbe parlare In teoria Però vediamo Abbiamo ricordato i dettagli Oh Dio Quando cacchi è stato? E che cacchi si ricorda? Quando è stato? Ragazzi non ricordo Bu We all waste Remember the day she was supposed to help you get ready for bible study? And she showed up hours late and totally wasted? Was that it? I'm sorry I'm really trying hard But I just can't remember Your mother acted erratic for months We fought many times We fought many times Was it ever about me? It was always about a lot of things But I didn't see it coming I hope you find your answers I really do I pray every night for you too But I I have a lot on my plate right now So I need to ask you to leave Ohhhh Low to stop Let's see It was lucid Not worried My sequel I had already put them in your trunk Ok Thanks Bye Tom See you later No, non ho scoperto molto bene. prima che cosa succederà che l'ha preso alla città tu magari è giusto sì lei è stata fatta per me, Alison lei era ancora un'ottima Marianne ma... lei mi ha visto mi sento più leggera come ho avuto un'altra cosa per le ultime 10 anni e... ora è... è morto wow Non è che quel giorno era ubriaca e non capiva quello che stava fatto Lo vediamo C'è qualcosa che puzza sotto comunque perchè è un Sua mamma voleva ucciderlo però aveva quel libro che cercava di capire insomma suo figlio E quindi la cosa sembra strana volesse ucciderlo Poi era ubriaca e non capiva che cacchio stava a fare non lo so che cacchio pensare Poi è impazzito tutto il tratto Non so veramente cosa pensare di questa storia Più vado avanti più rimango senza parole Al momento non so proprio cosa pensare Grazie Grazie